Ma è chiusa! Scusa, il consiglio comunale di settembre l'ha detto che era tutto a posto. Avremmo una piscina che non funzionava e funziona. C'è un po' di delusione da una parte, ma c'è un po' di, come dire, di soddisfazione, perché almeno abbiamo ancora qualcosa che funziona a posto con le caratteristiche, perché possa funzionare. Quindi tu vuole essere qualcosa? Ma sì, guarda, avevano detto due anni fa che volevano fare una piscina vicino allo stadio, ma non si è saputo nulla. Poi hanno cambiato idea, volevano farla in diosiglio pellico vicino al bacele, ma anche lì, boh. Scusa, ma questa qua dicevano che andava bene comunque. Scusa, cosa è successo? Guarda, ti leggo anche il comunicato che in sostanza dice che la struttura ormai non garantisce più la fruibilità del pubblico, le condizioni di sicurezza non sono neanche quelle minime. Il comune ha semplicemente detto che la struttura verrà chiusa e che si aspetterà l'intervento di un privato. E vabbè, ho capito, ma adesso qua i dipendenti e gli utenti che sono qua da Bettegrasso? Cioè, a Bettegrasso non c'era più una piscina. Non lo so, guarda. Vabbè, dai, ho capito, come al solito vedremo. Io non ci vado in piscina, per cui non... Eh, vabbè, cosa vuoi che ti dica? Cioè... Eh, cosa vuoi che ti dica? Io sono contento, però, vedi? Quindi è meglio non andare in piscina, cazzo. Allora, non andarci più in piscina, così magari tu riesci a fare anche qualche sorriso, no, cazzo. Allora.